L'agenzia Remax Innovation propone invidi da Pozzuoli nel prestigioso Parco Azzurro, suggestiva villa in posizione panoramica. La villa di 400 metri quadri dispone di terrazzi e rampi spazi esterni. L'agenzia Remax Innovation propone invidi da Pozzuoli in posizione panoramica. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.remax.it oppure contattateci ai seguenti numeri 081 526 7055 fax 081 193 69 627 www.remax.it